Buongiorno, buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 5 aprile 2017, ci avviciniamo ad un triste anniversario perché nel corso della prossima notte saranno otto anni dal sisma dell'Aquila, il sisma del 2009, diverse le iniziative, soprattutto una fiaccolata per ricordare questo tristissimo evento appunto nel corso della prossima notte, manifestazioni che troveranno spazio chiaramente anche sui quotidiani nel corso delle edizioni che sfoglieremo quest'oggi. Iniziamo la nostra rassegna dunque dalle quattro edizioni del centro, poi vedremo la prima pagina del messaggero Abruzzo e quindi della città e poi inizieremo anche la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Subito dunque sul centro, questa è appunto l'edizione aquilana e come detto l'apertura è proprio dedicata all'anniversario, la fiaccolata della memoria, otto anni fa il terremoto, stanotte lacrime e 309 rintocchi. Poi la fotonotizia che sarà comune alle quattro edizioni del centro, Abruzzo, Huberalles, tedeschi entusiasti della nostra regione. E poi di spalla fatti di cronaca internazionale, 58 vittime in Siria, strage di bambini con il gas. E poi un lutto, aveva 93 anni, addio a Sartori, politologo fuori dagli schemi. Poi in basso Mattarella domani a Sulmona, il sindaco lo accoglierà con i confetti per l'omaggio a Ovidio. L'Aquila, molestie a minorenne, giovane nei guai. Pratola, neonata trovata morta dalla madre nella culla. E ora la prima pagina dell'edizione di Chieti, rifiuti, il comune fa dietro fronte dopo il caos, la raccolta nei condomini torna il vecchio sistema. In basso leggiamo, notte violenta a vasto, botte in piazza, quattro denunciati, identificati picchiatori che ferirono gravemente un ragazzo. E poi, sempre per la cronaca, Chieti, prof morto ai Caraibi, tempi lunghi per l'autopsia. Ortona, Ndrangheta, sequestrato, l'alloggio del pentito. E poi ancora la prima pagina dell'edizione Terramana, altri 213 posti di lavoro nella sanità, previste nuove assunzioni entro l'anno dopo le 91 del concorsone. In basso, permessi facili anche a Roseto, la procura indaga per falso quattro dipendenti comunali. E poi stalking, perseguita l'istruttrice di fitness, condannato, terremoto, il governo permette decreto bis per gli aiuti. Avanti con l'edizione di Pescara, scoperto deposito di auto rubate. A Montesilvano i veicoli venivano smontati e i pezzi messi in vendita. E poi in basso, per lo sport, Sebastiani non vuole cedere la trattativa per la Pescara Calcio. Iannascoli ha rifiutato la mia offerta, dice, ma io spero ancora. E poi a Pescara, la Asles fratta dall'ospedale, l'associazione Leucemie. Moscufo, morto l'uomo ustionato nell'incendio di Sterpaglie. Ed ora la prima pagina del messaggero Abruzzo. Anche in questo caso troviamo l'apertura dedicata al prossimo anniversario del sisma. Infatti l'apertura è la seguente. L'Aquila dal dolore alla speranza. Il terremoto di otto anni fa con la fiaccolata di stasera il via alle manifestazioni per il 6 aprile in corteo. Anche i sindaci del nuovo cratere sismico. I parenti delle vittime, noi dimenticati. Poi sotto la testata Pescara Pagnanelli guida il Consiglio Comunale. Oggi l'elezione. Psicosi attentato. Allarme bomba a Montesivano per un trolley abbandonato. E poi per il calcio di Serie A possibile il colpo a Empoli. Parola dell'ex DS Iaconi. Da marzo in poi il Pescara dà sempre il massimo. La carica alla banda di Zeman arriva dal dirigente testimone dell'eroica salvezza del 94. Di spalla l'olio agrumato d'Abruzzo sul tetto del mondo. Francesco Ricci trionfa negli Stati Uniti grazie ai limoni frentani. Poi la fotonotizia. Museo o Smart City. La grande scommessa dalle macerie alla rinascita tra luci e ombre si guarda al futuro. In taglio medio sangue sui vestiti incastrato il killer di Chieti. Le macchie esaminate dalla polizia scientifica sono della vittima. Prova Regina contro Cipressi. E poi in basso Carichieti e De Nicola. Grandi crack. Processi divisi. Ora la prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Terremoto. Altra perdita di tempo. Il sindaco di Teramo, Brucchi, che ieri è stato in missione a Roma. Il governo vuole un altro decreto ma bastava inserire gli emendamenti al Senato. E poi sotto la testata sulla costa a Roseto, ex consigliere a processo per le offese ai vigili urbani. Giulianova, la Ciafardoni, spacca il centrodestra. E sempre a Roseto sarà il prefetto a decidere sul taglio dei Pini. Al centro della pagina, la fotonotizia, tornano le frecce. Ad Albadriatica la pattuglia acrobatica si esibirà la prossima estate, il 6 di agosto. E poi a Giulianova, Marozzi non lascia, raddoppia. Oltre alle palazzine costruirà un albergo. Leggiamo di spalla il report del sisma. 4.000 sfollati in città con le case inagibili. Il report del sisma a Teramo, ovviamente. L'altra emergenza, D'Alfonso, commissario per Neve e Frane. Università di Teramo, emergenza a scuola di comunicazione. Poi chiudiamo in basso, Enologia. Lui, il vino di Tortoreto, oltre il biologico che sbanca il Pro Vine. E ora approdiamo alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali, vedendo le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Iniziando dal Corriere della Sera. Raid sui bimbi uccisi con il gas. In Siria strage nella provincia ribelle. Oltre 60 morti, 11 sono piccoli. Bruxelles accusa Assad. Damasco smentisce l'uso di armi chimiche. Photoshop delle vittime. La Casa Bianca dice colpa di Obama. Poi sotto la testata Sartori, il maestro della politica. Addio al grande studioso ed editorialista che tra l'altro aveva scelto, aveva cognato dei termini che sono entrati nell'uso comune, come ad esempio i termini legati alle leggi elettorali, Mattarellum e Porcellum. E poi ancora, leggiamo di spalla, appalti e tangenti. Noi diamo il 2%. 10 arresti a Napoli. Andiamo ora a vedere la stampa. La prima pagina. I gas uccidono i bambini siriani. Armi chimiche sulle città ribelli. 58 vittime. L'Europa accusa Assad che nega. Testimonianze raccontano di attacchi sugli ospedali. La Casa Bianca dice la colpa è di Obama, ma è inutile cacciare il Rais. In basso per la politica. Di Maio andrà negli Stati Uniti. Obiettivo vedere Trump. Grillini al lavoro. Missione a maggio o settembre. Manovra sfida PD Padoan su tasse e privatizzazioni, catasto e contratti nel dossier del governo. Il fatto quotidiano. Questa l'apertura. PD 150 mila tessere abusive. Il 6 marzo erano 296 mila, ma a colpi di deroghe sono diventate 450 mila. Iscrizioni fuori tempo massimo condonate dal partito di Renzi. Sotto la testata la strage in Siria. Siria l'intoccabile Assad ha gasato 60 civili col Sarin. La Turchia critica Putin. Trump se la prende con Obama. E poi taglio medio. Anche in questo caso l'omaggio per il decesso del politologo Giovanni Sartori. Addio a Sartori. Maestro di democrazia. Aveva 93 anni. Politologo e polemista. La prima pagina del giornale. Salvi i paperoni Rai. Faccio e compagni esultano. Governo pronto a far saltare il tetto agli stipendi delle star. Pignoramenti per chi non rottama le cartelle. Poi Siria. Raid con il gas. Tanti bimbi tra i morti. L'ONU accusa Assad. Poi in basso. Allarme sicurezza. Caccia al killer di Budrio. Ladri liberi subito. E la legge. Avanti ancora con la prima pagina di Repubblica. Over 40 in fuga all'estero. È record. Nel 2016 quasi 120.000 si sono trasferiti in altri paesi. Soprattutto studenti e neolaureati. Ma in sei anni sono raddoppiati gli emigranti con i capelli grigi. Tra le mete Cina ed Emirati Arabi. Poi sotto la testata. Siria. L'orrore negli occhi dei bambini. Uccisi con il gas. Damasco nega. Protestano Unione Europea e Turchia. Trump. Colpa di Obama. La prima pagina della verità. I danni del Jobs Act. Abolita la cassa integrazione. Renzi produce 100.000 esodati. Da quest'anno in vigore le nuove regole sugli ammortizzatori sociali. I dipendenti di molte aziende in crisi o pericolanti non hanno più alcuna copertura. L'UGL attacca intere famiglie nel limbo. Bisogna salvarle. E poi sull'allarme sicurezza interviene il direttore Maurizio Belpietro. Sui numeri dei reati. Troppi giochetti. In taglio medio. Arresti per le tangente pagate dal colosso delle Coop. Un imprenditore dice che funzionari di Manuten Coop dicono che per loro versare il 2% è normale. Il GIP ci sono le prove. La prima pagina del manifesto. Orrore. Un sospetto attacco con gas tossico ha ucciso ieri in Siria 58 civili a Idrib. Tanti i bambini. rimpallo di colpe. L'Occidente accusa Assad. Damasco le opposizioni. L'umanitario Erdogan negoziato a rischio. Ma il dialogo non c'è mai stato. Lo sdegno per Aleppo è finito. La guerra no. E poi leggiamo sotto la testata. Attacco organizzato in Siria. Russia. San ma Gentiloni stop a privatizzazioni e nuovo catastro. Il PD impone sul DEF la regia di Palazzo Chigi. Manovra trattativa con l'Europa per uno sconto di 5 miliardi. E poi la fotonotizia dedicata appunto alla strage in Siria. Armi chimiche sui bambini. Assad sotto accusa. Lui nega. Poi di spalla per lo sport. Coppa Italia. Duello per la finale. Napoli-Juventus. L'orgoglio azzurro all'ultima prova. Il messaggero. Gas sui bimbi. L'umanità è morta. Raid sulla provincia siriana di Idlib. Lanciate bombe tossiche. Strage di donne e bambini. Assad non siamo stati noi. Erdogan e Putin. Tregua a rischio. Trump non si può ignorare. E poi in taglio medio la fotonotizia. Derby alla Roma. Ma in finale c'è la Lazio. Ai gelorossi non basta il 3 a 2 dopo lo 0 a 2 dell'andata. Sempre in taglio medio. Stop su catastro e privatizzazioni. Il PD frena Padoan. Vertice con il ministro. No ai nuovi pignoramenti. Manovra nel 2018 più leggera. Proseguiamo con gli ultimi titoli delle ultime testate. Rapidamente il titolo d'apertura del secolo XIX. Fisco. Spuntano più detrazioni. Privatizzazioni e manovre. Il PD frena Padoan. Tutti i dossier sul tavolo. il nuovo Vademercum per i redditi del 2016. Dalle gite scolastiche alla mensa. Gazzetta del Mezzogiorno. PD. La manovra infrenata. Rischio carotasse. Timori dei dem per la riforma del catastro. Tensione nella maggioranza. Gentiloni stretto tra Alfano ed MDP. Poi ancora l'avvenire. Bimbi avvelenati. Il riferimento alla strage in Siria. 60 morti a Idlib. L'opposizione accusa Assad di aver usato armi chimiche. Finiamo qui la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e torniamo ai quotidiani locali andando a sfogliare le pagine interne del centro. Lo facciamo andando subito a pagina 4 e 5. Il riferimento qui è alla fotonotizia che avevamo visto nella prima pagina delle quattro edizioni. Turisti in Abruzzo e ora arrivano i tedeschi. I tour operator della Germania innamorati di Santo Stefano di Sessagno e del mare. Poi leggiamo alcune testimonianze. Tiziana Mergiotti, direttore tecnico di Vivere Italia. Fare breccia è stata soprattutto la suggestione dei borghi dell'Aquilano con le loro tradizioni e un modello di turismo di nicchia. Il conte tedesco Albrecht von Wecht tornerò al più presto. Qui ho visto scorci e paesaggi che mi hanno toccato l'anima. Una dimensione di rara bellezza da far conoscere. Qui una foto di gruppo, evidentemente, di tanti turisti che hanno visitato Santo Stefano di Sessagno. In basso è la serata di gala e la ciliegina sulla torta. Brindisi, musica e balli. Le leccornie abruzzesi fanno da contorno allo scambio di biglietti tra operatori. Poi parla anche il grande fautore dell'albergo diffuso a Santo Stefano di Sessagno, ovvero Daniele Kilgren. La cultura diventa economia. La politica l'ha capito. L'inventore dell'albergo diffuso in Abruzzo rivela al centro. Qui nel 98 c'era una sola struttura ricettiva. Ora sono 21. Il progetto di un, tra virgolette, pazzo. Nessuno ci credeva. Ora do lezioni all'università. E poi tra gli ultimi arrivi il re e la regina del Belgio e il famoso attore George Clooney. Avanti ancora con la pagina dell'Abruzzo. Consiglio regionale pesca via libera alla nuova legge. Dopo 32 anni l'assessore Pepe parla di passo fondamentale per tutto il settore. Ecco cosa cambia per le circa 14 mila licenze abruzzesi. Scompare il tesserino. Resta invariata la tassa di concessione. Esentati disabili, giovani e anziani. Norme ad hoc sul ripopolamento. E poi c'è questa particolare iniziativa. La protezione civile diventa open. Mazzocca. Aperti al confronto. E poi le pagine di cronaca a Pescara. Fallimenti. L'udienza. Crack pilotati. De Nicola chiede di patteggiare. Colpo di scena in aula. La richiesta del patrone di scuole private e case di cura. Il giudice manda a Chieti il filone d'indagine sui vertici della vecchia. Carichieti. In basso parata di avvocati. Malasiti. Slitta. Arrivano i grandi nomi del foro. Il malanno di un indagato fa saltare l'udienza. Qui le foto di alcuni importanti avvocati del foro di Pescara. Poi disagi per il cantiere. File di auto in mezza città per la nuova via del circuito. Traffico paralizzato nelle ore di punta a Porta Nuova e nella zona dell'ospedale. Ma i lavori per risistemare il manto d'asfalto si sono conclusi in anticipo. Alcuni scatti testimoniano appunto il traffico in tilt, sul ponte d'Annunzio, in via Orazio, in piazza Pierangeli e sul ponte della Libertà in alcuni momenti del primo pomeriggio. Il Comune rifaccia anche via del Concilio. Di Cintio del Lance sollecita altri interventi. Pignoli. Dimenticate le strade dei Colli. Zana e Marina Sud. Avanti ancora la cronaca. Carrozzeria abusiva. Scoperto il magazzino delle auto rubate. I veicoli nascosti a Montesivano venivano smontati per la vendita dei pezzi. Dietro il giro c'era il ladro fermato domenica. E poi in basso visita pneumologica ad agosto 2018. Pensionato protesta. Poi con l'impegnativa d'urgenza. Ottiene il controllo subito. Il caso. L'elicottero 118 è troppo pesante. Non può atterrare all'ospedale. Denuncia di Foschi, che è il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Un errore costato 12 milioni di euro. I nuovi mezzi costretti a scendere all'aeroporto dove i feriti gravi vengono caricati sulle ambulanze. E poi in basso sfrattata l'associazione Leucemie. La ASLE destina i locali all'ospis, ufficio giudiziario e polizia in via Paolini. Avanti ancora un parco per fare sport al posto della caserma. Un campo di calcetto, bocce e percorso vita. Ecco il progetto per via Rigopiano. Blasioli a Roma per richiedere finanziamenti al Coni. Subito pronti 150 mila euro. E poi in taglio medio per la politica basta spartizioni delle poltroni. I Cinque Stelle attaccano il PD. Oggi l'elezione di Pagnanelli alla presidenza del Consiglio. E su questo fatto ieri abbiamo realizzato questo servizio. Vediamo. Consigliera Sabatini, domani verrà eletto in aula il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Pescara. Sarà Francesco Pagnanelli del Partito Democratico. Voi non parteciperete a questa votazione. Perché? Il presidente del Consiglio è di fatto già sfiduciato dall'Aula, dalla maggioranza dell'Aula. Perché il consigliere Pagnanelli dopo uno scontro continuo con il consigliere Presutti è stato deciso dal partito che lui dovesse andare al ruolo di presidente del Consiglio perché portatore di voti. Dopo questo scontro abbiamo assistito poi a un waltzer di incarichi, di spartizioni di poltrone, di ricatti politici da parte dei consiglieri, quindi delle liste civiche, che hanno richiesto, addirittura hanno proposto una candidatura alla presidenza del Consiglio che però poi si è sciolta al sole nel momento in cui il PD ha iniziato a parlare in maniera separata con tutti i consiglieri delle liste civiche e a quanto pare sembra che tutti oggi siano soddisfatti per aver ottenuto qualcosa. Voi rimproverate anche una mancata partecipazione dell'Aula a questa decisione? È stata assolutamente ignorata l'Aula. Il presidente del Consiglio ha un ruolo di supervisione e di coordinamento dell'attività consigliare e dovrebbe essere riconosciuto dalla maggior parte dell'Aula. In tutta questa fase non c'è mai stata un'interlocuzione dell'opposizione. Il centrodestra pare dai giornali che avesse addirittura ragionato sulla possibilità di appoggiare l'Aula Berardi. Noi assolutamente no, non l'abbiamo mai neanche ventilata questa ipotesi. Quello che emerge è che comunque per stare a fianco al sindaco Alessandrini ognuno chiede qualcosa. La sfiducia verso il sindaco è talmente alta ormai che probabilmente per tutte le umiliazioni portate avanti da questo partito democratico ormai ognuno chiede qualcosa in cambio per rimanere accanto a lui. Torniamo sulle pagine di Pescara del centro. Siamo alla politica. Emiliano vince in otto comuni. A Orlando solo c'è pagati. Il voto dei circoli. Il governatore della Puglia ha vinto anche a Popoli. Appello di Castricone ai non iscritti. Partecipate alle primarie del 30 aprile. Poi c'è questa tabella riepilogativa anche dei circoli della città di Pescara del PD. In taglio medio il primo colloquio di lavoro. Non chiedete soldi e siate sinceri. Seminario all'università per 300 studenti. A Francavilla porto turistico scontro sui costi per il completamento dei lavori. Secondo Bernini di Uniti a Sinistra occorreranno altri 7,5 milioni per ultimare l'opera. Il sindaco Luciani dice progetto ridimensionato. La ditta ci riconsegnerà un primo lotto funzionale. In basso a San Giovanni Tiatino, ex Fonderia, via tutto l'amianto. La ditta d'inizio. Lavori di bonifica conclusi entro l'estate. Siamo alle pagine di Montesilvano. La giunta approva il piano spiaggia e aggira il Consiglio. Il nuovo documento bloccato dai dissidenti del centro-destra consente di realizzare pontili trabocchi e un circolo nautico. Evitato dunque il voto dell'Assemblea. Poi ancora, petizione contro il centro di accoglienza. Noi immigrati al centro Trisi, i residenti, raccolgono le firme. Noi invece abbiamo raccolto ieri la replica del sindaco Maragno sulla vicenda dopo l'attacco della lista Montesilvano 2019, di due giorni fa. Un attacco strumentale infondato e distorto è la replica del sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, al capogruppo di Hashtag Montesilvano 2019, Entoli Aliano, che aveva criticato aspramente l'accoglienza agli immigrati resa dall'amministrazione comunale, causa di degrado per la città. Credo che abbiano scatenato una tempesta in un bicchier d'acqua o abbiano preso fischi per fiaschi, perché la politica portata avanti da questa amministrazione è quella di ridurre la presenza degli immigrati, a differenza di ciò che hanno fatto le precedenti amministrazioni. Tant'è che noi abbiamo attivato le procedure per l'apertura dei centri sprade, che saranno centri di seconda accoglienza, che comporteranno la chiusura delle strutture alberghiere presenti sul territorio e la dispersione sul territorio in un numero notevolmente inferiore agli attuali. Quindi passeremo dai 350 immigrati ai 160 che potremo ospitare, escludendo le zone commerciali e le zone alberghiere. In questo, grazie a Dio, tutti gli operatori del settore, gli operatori commerciali, gli operatori alberghieri, hanno capito la bontà del progetto, tanto da farci i complimenti e da chiederci di accelerare in questo processo. Poi c'è chi deve strumentalizzare volgarmente, purtroppo sta a loro fare poi anche delle magre figure. Sempre in provincia di Pescara, morto un impenditore ustionato nel rogo, Enrico Luciani, di 62 anni, era rimasto gravemente ferito, domenica mattina mentre dava fuoco alle sterpaglie. Poi, tornando a Montesimano, SOS bomba in via Lussemburgo, ma nel trolley non c'è niente. Questa foto ritrae il momento dell'intervento dei vigili del fuoco, dopo che era scattato l'allarme bomba. Nell'area Vestina, Penne, si cura solo una scuola su quattro. SOS dell'assessore Campitelli, senza misure urgenti, nel prossimo anno c'è il rischio che la città subisca un accorpamento. E ora andiamo a vedere le pagine di Chieti, L'Aquila e Teramo. Pagina di Chieti, giallo ai Caraibi, prof morto, tempi lunghi per la verità, slitta l'autopsia su Fernando Ranni, trovato impiccato a Bocacica, nemmeno gli amici credono al suicidio. E poi in basso, blitz della polizia Andrangheta, sequestri a Ortona, sigili a un appartamento del collaboratore di giustizia Pulice. E poi notte violenta a vasto, aggressione in pieno centro, denunciati quattro giovani. All'Aquila, otto anni fa, il sisma, fiaccolata nella notte più lunga, così l'Aquila onora le 309 vittime. Stasera corteo silenzioso in centro storico, con sosta davanti ai principali luoghi dei crolli del terremoto. Messa dell'arcivescovo a San Giuseppe Artigiano e veglia fino alle 3.32 con i rintocchi della campana. In basso, dai piccoli angeli di San Giuliano ai veleni di bussi, oggi l'incontro della rete nazionale dei comitati dei familiari degli scomparsi nelle tragedie con responsabilità umane. Al palazzetto dei nobili raduno dei movimenti che hanno trasformato il dolore in impegno. L'abbraccio ai nuovi sfollati di Amatrice e alle mamme della terra dei fuochi. Pagina di Terra, ma con la sanità in primo piano. Aslo, un'altra raffica di posti dopo quelle dei 91 operatori sociosanitari. In arrivo, 213 assunzioni entro l'anno. La parola del direttore generale Fagnano. Sono stato criticato per aver detto che siamo meglio della Fiat, ma in Abruzzo una cosa così non si era mai vista. Il primario del Rosso c'è ancora carenza di medici. Se non arrivano entro l'estate alcuni reparti saranno costretti a chiudere. E poi le parole dell'assessore regionale al ramo Paolucci. La scelta è l'ospedale unico. L'assessore non lascia spazio all'ipotesi di averne uno all'interno e uno anche sulla costa. Deve essere in posizione baricentrica. Poi sarà il territorio a dirci esattamente dove. E noi con questa notizia chiudiamo per ora la rassegna stampa del centro e chiudiamo anche la prima parte di Mattino 6. Ora le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi rientriamo con Messaggero e la città. Di nuovo buongiorno alla seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con le pagine del Messaggero Abruzzo, in particolare quelle dedicate all'anniversario del sisma. Noi parenti delle vittime dimenticati da otto anni. Lo sfogo di Sergio Bianchi al premio Avus. I nostri figli siano come i morti sul lavoro. Il commissario Errani, situazione unica, ma ci sono fondi e progetti per ricostruire. Poi ancora in basso andiamo a leggere. I sindaci del nuovo cratere sismico apriranno stasera il Mesto Corteo. Alle 3.32 in Piazza Duomo la campana del suffraggio ricorderà chi non c'è più. Alle 10.30 cerimonia di intitolazione presso il comando dei Carabinieri al maresciallo Giampaolo Pace. Poi domani alle 15 la corsa podistica non competitiva con mille allievi della Scuola della Finanza. E poi si guarda anche al futuro città smart o grande museo. L'Aquila a caccia di sogni. Otto anni dopo il terremoto del 2009 sono ancora tante le questioni aperte. Ricostruzione del centro a metà strada, progetti futuristici ma tanti senza lavoro. Per gli edifici privati spesi finora quasi 5 miliardi. Il cuore antico sarà terminato attorno al 2020. Poi ancora Duomo, progetto a maggio. Poi il via all'atteso appalto. Il segretario regionale dei beni culturali traccia un bilancio del recupero dei monumenti. Auto connesse, 5G neutrini, il futuro della ricerca è qui. Boom di richieste per l'accesso al Gran Sasso Science Institute. Oltre 1300 domande per 40 posti. E allora, a proposito del convegno di ieri, c'era anche il commissario Vasco Errani, come abbiamo letto. Allora, vediamo quello che è stato il suo intervento. Noi stiamo vivendo una situazione con questi terremoti che ci indica la strada fondamentale, che è quella della prevenzione. I terremoti non si prevedono, ma sappiamo che siamo in zona 1 ad alto rischio e quindi bisogna prevenire. Bisogna costruire un piano strategico, su questo il Governo sta lavorando con Casitalia, per sviluppare strategicamente un'azione di prevenzione. Nel frattempo, per quello che riguarda la ricostruzione, la ricostruzione dovrà essere realizzata attraverso indicazioni chiare, dal punto di vista tecnico-scientifico, che assicurino la sicurezza. E questo è quello che stiamo cercando di realizzare. Queste le parole del commissario straordinario alla ricostruzione del Centro Italia, Vasco Errani, che ha preso parte oggi all'Aquila la cerimonia di presentazione del premio Avus aprile 2009, che ha assegnato 3.000 euro ex equo a due studenti autori di tesi di laurea dal particolare valore in tema di sicurezza sismica e gestione delle emergenze. Premiati quest'anno Marco Zanini, dell'Università di Padova, e Vincenzo Doriano, Università di Bologna. Un'occasione per Errani, non solo per rispondere ai tanti cittadini terremotati, che hanno manifestato sabato e domenica scorsa, ma anche per ribadire per l'ennesima volta, l'importanza è di investire sulla prevenzione. È sempre comprensibile la protesta, la cosa di cui bisogna sempre tener conto è che ci troviamo di fronte ad una serie di eventi che sono del tutto unici nella storia di questo paese. abbiamo un cratere che ormai è di 140 comuni e quindi la protesta è comprensibile, ma bisogna tenere conto che siamo di fronte a questa straordinarietà. Sul messaggero Abruzzo, pagine di Pescara, in consiglio è il giorno di Pagnanelli. Questa mattina in aula si vota per eleggere il presidente al posto di Brasioli, l'esponente del PD e l'unico candidato da consigliere anziano sarà lui stesso a presiedere la seduta, designazione decisa alla Taverna 58, alla cena con D'Alfonso. E come abbiamo ascoltato prima, l'opposizione non vota, o sceglie a scheda bianca, Sabatini nel Movimento 5 Stelle, un nome che divide in partenza i suoi stessi alleati. Poi abbarginata per ora la contestazione delle liste civiche, rientra Casciano, primo dei non eletti, voglio far bene. Poi in taglio medio, chiuso il decor del Bar Saquella, riscontrate irregolarità in tre BNB. In basso, strade e lavori, lance e controlli sulla qualità, via del concilio coperta col cemento, asfaltata e riaperta, via del circuito Pignoli, dimenticata la zona dei Colli. Poi sempre a Pescara, nell'emporio di Via Roma, la più nobile tra le arterie del centro, punta su un'offerta commerciale varia, dai casalinghi ai profumi ai salumi, con la marcia in più offerta dai social. Il restyling e la pedonalizzazione hanno riportato vita, ma i commercianti contestano pulizia e manutenzione. In basso, false griff ambulanti nel mirino di vigili urbani e forze dell'ordine. Vertice in quest'ora, per azioni coordinate, il centrodestra diffida la Municipale ad attivare controlli, due pattuglie in campo. Poi in provincia di Pescara, Montesimano scatta l'allarme bomba per un trolley abbandonato in strada, transenate due vie in zona Porto Allegro, residenti segregati, il bagaglio fatto esplodere dagli artificieri. Poi crack de Nicola, e carichieti cause divise, l'imprenditore verso il patteggiamento. La onlus fuori controllo, sfrattata dall'ospedale, liberati per ordine del giudice, i locali occupati dalla AIL, la ASL è impossibile usare strutture in modo arbitrario. E torniamo all'Aquila, stavolta la politica, visto che ci avviciniamo sempre più alle elezioni comunali. Centrodestra salta il sondaggio, slitta il via libera a Bergamotto. Il tavolo nazionale annulla le telefonate perché c'era il nome di Liris, non candidato. Venerdì incontro a Pescara con Matteoli, ma la decisione finale, solo tra sette giorni. Fratelli d'Italia è intenzionato a tenere duro sulla proposta politica di Pierluigi Biondi. Poi ancora Tinari per attivo, si vocifera di una propria lista, intanto lui attacca duramente il centro-sinistra. Andiamo in Marsica, da Vezzano, la presaferra riparte, via ai primi materiali. Il gruppo Celi ha preso in mano le redini di quella che era una costola della presider di Donato Lombardi. Gianfranco Celi dice i nostri clienti non sapevano dove potersi rifornire di ferro dopo la chiusura del vecchio stabilimento. Un segnale positivo per il nucleo industriale del capoluogo e per l'intera Marsica. Siamo alle pagine di Chieti, la cronaca, omicida incastrato dalle macchie di sangue, conferme sull'arma del delitto, la procura pronta a chiedere il giudizio immediato. E poi ancora analisi della polizia, tracce del DNA di Fausto Di Marco sui vestiti di cipressi e sui cocci di vetro. Di spalla leggiamo dal Ministero, arriva l'ok alla Mazzoccone, la funzionaria vicario, facente funzioni del direttore generale appunto all'università. Lunedì prossimo il Tribunale del Riesame si pronuncerà sul ricorso del DG del Vecchio. Siamo ora a Lanciano, la cronaca, molestie in fabbrica, operaio a giudizio, 36enne accusato di violenza sessuale nei confronti della collega di lavoro, il processo fissato al 25 ottobre. La donna per due anni continua avanza e palpeggiamenti, foto nude inviate mediante Whatsapp, infarcite da frasi oscene, le postazioni dello stabilimento in Val di Sangro scambiate dall'imputato per Alcove. E ora andiamo nelle pagine di Teramo, Brucchi, Governo, non mi fido, gli sfolati diventano 3.900, le parole del Sindaco hanno promesso di inserire gli emendamenti in un nuovo decreto, sisma incontro a Roma con Silvio Lai, ma la nostra battaglia non si ferma. Emesse altre 19 ordinanze con lo sgombero di tre famiglie nella zona di Putignano. Per la politica, mozione Renzi, vincente, ecco i dati in provincia, soddisfatti pure i sostenitori di Orlando. Per Di Sabatino un risultato ottimo. Posti Asle dopo gli operatori via agli infermieri, ma scoppia la granale dei medici che mancano nei quattro presidi della provincia. E ora sulla costa Giulianova, via libera ai parcheggi a pagamento, passa l'affidamento a Giulianova, patrimonio con la novità degli abbonamenti anche per i residenti. Stagli liberi la domenica e nei giorni festivi, tranne l'estate. Nessun problema nemmeno per il bilancio e consigliere Retco attacca il sindaco sul passaggio del nuovo raggruppamento articolo 1 democratici e progressisti. Mastromauro replica e si mostra soddisfatto per il mancato aumento delle tariffe. Lasciamo il messaggero Abruzzo, andiamo a sfogliare ora le pagine della città, il quotinano della provincia di Teramo, ma iniziamo con pagina 3 nello spazio per le notizie dalla regione. Ecco qui, la protezione civile impara a comunicare sabato mattina al campus l'incontro sul progetto nato in collaborazione con l'Università di Teramo. Le parole del sottosegretario Mazzocca con delega alla protezione civile. il nostro scopo è quello di migliorare sia nelle relazioni all'interno del nostro variegato sistema che con le amministrazioni comunali, i cittadini e la popolazione abruzzese. L'incontro sabato mattina si confronteranno i responsabili regionali e gli esperti nella comunicazione. Poi l'ordinanza sul maltempo Luciano D'Alfonso commissario per i comuni esclusi dal cratere sismico. Ora siamo alle pagine di Teramo. il Senato ha solo perso tempo sul sisma. Brucchi al rientro da Roma vogliono fare un altro decreto. Bastava inserire gli emendamenti dei sindaci. Il sindaco appunto in Parlamento durante il rush finale sul decreto sisma per strappare le ultime modifiche al testo e c'è la deadline la scadenza in sostanza il 9 aprile scade il termine per approvare il decreto ma non c'è stata discussione sugli emendamenti. Avanti ancora sanità non solo OS presto il bando per gli infermieri la ASL di Teramo parla di svolta epocale le 91 assunzioni in arrivo sono numeri da multinazionale le parole del manager Fagnano l'inserimento di ben 91 operatori sociosanitari ci consente di coprire il turnover con personale giovane attento e qualificato. Allora vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione Teramana proprio su queste nuove assunzioni all'ASL di Teramo Cambia passo l'ASL di Teramo in fatto di assunzioni 91 nuovi operatori sociosanitari vincitori di concorso prenderanno servizio a tempo indeterminato nel prossimo mese di maggio ed è già partito il concorsone per selezionare e contrattualizzare decine di nuovi infermieri la sanità Teramana torna dunque ad assumere dopo il blocco degli anni passati quando a causa dell'applicazione del piano di rientro l'Abruzzo non ha potuto fare assunzioni ora invece negli ospedali è possibile abbiamo portato avanti 91 assunzioni ulteriori ne porteremo avanti faremo partire anche il concorso per il comparto per quanto riguarda le graduatorie infermieristiche credo che sia un passaggio importante ed è dovuto al fatto che i conti tornano in relazione al fatto che abbiamo avuto un risultato di 14 milioni di euro migliore rispetto ai patti sottoscritti con il governo e allo stesso tempo abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia di questa regione non solo l'adempienza sui livelli essenziali di assistenza ma addirittura un punteggio di 181 piazzandoci davvero molto bene rispetto alle altre regioni insomma la sanità sta migliorando e riesce anche a abbassare l'età anagrafica del proprio personale ulteriori investimenti sul personale potranno essere garantiti anche nel proseguo del prossimo anno il direttore generale dell'asla di Teramo Roberto Fagnano nel complimentarsi con gli os ne ho assunti ha chiesto loro più sorrisi in corsia e migliore comunicazione con i pazienti che vuol dire essere un osso? beh diciamo che è una propensione naturale che una persona perlomeno io è una bella soddisfazione essere arrivata per prima ed è veramente un bel lavoro gratificante direi l'ultimo passaggio dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci è stato poi sul presidio unico di Teramo è fondamentale realizzarlo ha dichiarato Paolucci per migliorare sempre di più le prestazioni sanitarie e l'utenza sull'ubicazione del futuro ospedale sarà però il territorio a decidere torniamo sulla città la cronaca stalking in palestra condannato il 33enne Teramano perseguitava l'istruttrice di fitness di Mosciano e poi a Milano assolto il giuliese accusato di persecuzioni dal missile 38enne finì agli arresti domiciliari avanti ancora con le notizie dalla provincia da Lonzo verso la ricandidatura esposito no il sindaco di Crogna Leto vuole il terzo mandato a Valle Castellana D'Angelo in corsa dopo la rottura col sindaco l'ex vice sindaco appunto a Valle Castellana dopo aver rotto con esposito non godrebbe dell'appoggio del PD provinciale del segretario Gabriele Minosse ma può contare su quello dell'assessore regionale Dino Pepe e poi sempre la politica PD tra i big solo Renzo sta con Orlando il partito in provincia è schierato con Renzi 67% ma i voti sono in netto calo la provincia accelera sulla banda ultralarga entro la fine dell'anno altri 32 comuni della provincia di Taramo avranno l'accesso alla connessione internet team di ultima generazione le parole del presidente Di Sabatino si tratta di un salto di qualità sostanziale per il sistema produttivo e per il mondo professionale e poi ancora lui il Montepulciano di Tortoreto segnalato al Pro Wine di Düsseldorf il Gambera Rosso lo cita tra i dieci assaggi da non perdere al salone che anticipa il Vin Italy la cantina di Tortoreto ben oltre gli standard della denominazione il vino viene prodotto con standard naturali e poi ancora l'abbiamo visto in prima pagina le frecce tricolori tornano ad Alba Adriatica due anni dall'incidente che costò la vita ad un pilota di una squadriglia privata la data dell'esibizione sarà quella del 6 di agosto prossimo a Giulianova il caso Ciafardoni spacca il centrodestra il portavoce Giuliese di Forza Italia Gatti e Tancredi pensino a Teramo il peccato originale aver puntato sulla Ciafardoni per poi lasciare Forza Italia senza alcun consigliere comunale avanti ancora siamo a Roseto il prefetto deciderà sul taglio dei pini il sindaco chiede un parere in arrivo i pannelli anti rumore in zona nord in via Colombo da un lato Ferrovie chiede il taglio per motivi di sicurezza dall'altro c'è il blocco della soprintendenza e poi sempre a Roseto ex consigliere a processo per le offese ai vigili avrebbe ripreso pesantemente gli agenti mentre multavano delle auto in sosta davanti al municipio già all'epoca dei fatti il caso solleva molte polemiche nei confronti dell'ex consigliere e poi andiamo alla pagina dello sport diavolo ad Ancona Ugolotti dice Teramo non rilassarti Biancorossi alle 20.30 in scena del Conero per il posticipo contro l'ultima della classe dubbio di Paolo Antonio qualche problema per il centrocampista che comunque dovrebbe essere titolare questa sera il turno infrasettimanale di oggi consente al Teramo di affrontare una squadra in nettissima difficoltà ma l'allenatore non si fida perdere ora significherebbe buttare via il lavoro fatto e con questo articolo noi torniamo allo sport su centro e messaggero ripartiamo dalle due pagine sul Pescara del centro scontro salvezza a Empoli per vincere e Zeman sa come si fa l'ultima volta il Boemo con il Cagliari distrusse i Toscani 0-4 ottimo il bilancio in carriera del tecnico con gli azzurri su 10 gare 6 vittorie 3 pareggi una sola sconfitta giocheranno gli stessi schierati con il Milan sfida tra senegalesi Colibari contro Dius Lex Ciosic si opera intanto parlando per la prossima stagione la preparazione si svolgerà a Rivisondoli e a Palena dal 10 luglio al 7 di agosto la prima parte a Rivisondoli poi la seconda parte a Palena e in questo caso sarà un ritorno visto che anche lo scorso luglio il Pescara effettuò la preparazione proprio nel centro di Palena Lex Biancazzurro Croce Pescara mi dispiace ma l'Empoli deve vincere il centrocampista di Roseto dice all'inizio speravo nella salvezza di entrambe purtroppo questa possibilità non esiste più vogliamo uscire dalla crisi e poi parla anche dell'ex compagno Alberto Girardino che è un professionista serio però non era adatto al nostro gioco se non si fosse fatto male avrebbe aiutato il Delfino non giochiamo per il pari e temo Caprari e Baebec poi un ritorno sulla vicenda societaria con le parole di ieri del socio della Delfino Pescara il presidente del Pescara Calcio a 5 Danilo Iannascoli Sebastiani non vuole vendere l'ex AD dice l'offerta è stata respinta da lui non dalla società spero ancora di prendere la maggioranza lo abbiamo ascoltato ieri Danilo Iannascoli proprio a margine della premiazione da parte dell'amministrazione comunale della squadra di Calcio a 5 che ha portato a casa un altro trofeo ovvero la Coppa Italia Presidente Iannascoli ancora una grande giornata per il Pescara Calcio a 5 oggi c'è questa cerimonia in comune per festeggiare la conquista della Coppa Italia con la squadra maggiore ma anche con l'Under 21 ci stiamo piacevolmente abituando a frequentare questa sala consigliare per ricevere dei premi in questi tre anni abbiamo disputato nove finali ne abbiamo vinte sei e siamo una squadra costruita per vincere ma soprattutto siamo pronti su tutte le competizioni e ce le giochiamo sempre Lei è anche oltre che Presidente del Pescara Calcio a 5 socio del Pescara Calcio a 11 fino a poche settimane fa si parlava di un suo intendimento di acquisto della società calcistica che oggi vede come Presidente Daniele Sebastiani è ancora intenzionato ad acquistare il Pescara ma intanto non l'ha respinta la società la mia offerta l'ha respinta il Presidente io sono intenzionato a vendere e ho fatto la proposta perché lui aveva detto che voleva vendere la società poi penso che ci ha ripensato forse lo stesso giorno non ha per niente aperto neanche la trattativa però io sono sempre pronto tra l'altro ho il 30% circa delle quote perciò sono in società e continuo a finanziare questa società perciò continuerò fino a quando riterrò opportuno farlo però sicuramente spero di poter prendere la maggioranza di questa società Quindi a breve potrebbe riproporre una nuova offerta il Presidente Sebastiani? No, no perché lui non ha voluto continuare la trattativa perciò non l'ha neanche aperta e perciò io non posso rilanciare nel momento che lui vorrà vendere sicuramente mi chiamerà Un giudizio sul campionato del Pescara di quest'anno? È un campionato di Serie A che penso che sia il più scarso degli ultimi anni ci sono quattro squadre che praticamente hanno giocato un campionato a parte e l'hanno giocato malissimo Empoli, Palermo Crotone e Pescara io l'ho detto anche quando ho fatto l'offerta l'ho fatta perché pensavo e lo penso anche oggi addirittura che ci fosse la possibilità di salvarsi perché comunque l'Empoli non è migliore delle altre tre squadre non è assolutamente migliore del Pescara però sai le settimane passano tu non riesci a vincere le partite l'Empoli continua a perdere però il campionato del Pescara sicuramente non è stato bello però per il Pescara Calcio 5 non c'è una bella notizia lo leggiamo sul messaggero Abruzzo il Coni decreta la sconfitta a tavolino adesso il primo posto non è più matematico il verdetto è definitivo e quindi Pescara se vuole brindare il primo posto nell'ultima giornata dovrà almeno non perdere quindi vincere o pareggiare sul campo della Caffè Lollo Napoli sempre con il messaggero torniamo al calcio Pescara devi crederci devi crederci ancora Andrea Iaconi ex DS Biancazzurro la gara di Empoli è l'occasione buona per vincere e iniziare la rincorsa nel 94 con Rumignani allenatore conquistiamo all'ultimo minuto una salvezza che pareva impossibile poi per il basket di A2 Bartocci chiede grandi motivazioni alla Proger che è in difficoltà nella ricerca della salvezza Smith invece rialza Roseto il pubblico farà la differenza contro Ravenna dobbiamo subito tornare a vincere il campionato ci riserverà ancora soddisfazioni poi ancora il calcio Teramo oggi l'Ancona è la gara della verità sul campo dell'ultima in classifica l'occasione per avvicinare la salvezza Ugolotti per noi può essere la partita della svolta non sottovalutiamo i marchigiani ma in partenza non possiamo accontentarci di un pareggio ieri ha parlato in conferenza stampa pre-gara Guido Ugolotti ascoltiamolo quella di domani potrebbe essere la svolta decisiva perché è normale che se riuscissimo a fare risultato anche domani significherebbe fare un gran passo avanti visto il calendario che abbiamo detto questo è una partita come ho detto prima molto molto difficile la partita scorsa ci ha dato la possibilità di riagganciarci al gruppetto e adesso sta a noi sta perché è normale che l'ho sempre detto non possiamo sottovalutare nessuna partita e ogni partita diventa determinante ne mancano talmente poche perciò perdere adesso significherebbe ricompromettere un pochettino tutto e questo non sarebbe visto il percorso che stiamo facendo ultimamente sarebbe qualcosa di buttare via il lavoro che abbiamo fatto e questo sicuramente non sarebbe bello io ho visto tutte le partite dell'Ancona della vecchia gestione e ho visto le partite della nuova gestione è vero sono tre partite ha perso due e tre volte però immeritatamente posso dire perché io ho visto la partita che hanno giocato in casa con il Pordenone e onestamente ho visto alcuni giocatori dell'Ancona mangiarsi dei gol che noi saremo ancora qua a protestare oppure a recriminare la stessa cosa è successa con il Suttirol e se andiamo a vedere l'ultima partita che hanno giocato con Lumezzane stavano 1-1 poi a un certo punto sono rimasti in 10 e il secondo gol del Lumezzane è venuto per un tiro da fuori aria deviato e la palla va sotto l'incrocio io ho a che fare con dei professionisti penso che sappiano perfettamente le difficoltà di questa partita perché questa forse è la partita più difficile perché di fronte abbiamo una squadra che è vero che viene da è ultima in classifica che viene da una serie di sconfitte però bisogna andare a analizzare le sconfitte la situazione che hanno di conseguenza dobbiamo stare molto ma molto attenti perciò penso assolutamente che non ci sia nella testa dei ragazzi il minimo pensiero di dover sottovalutare questa partita anzi noi andiamo per vincere questo l'ho detto ai ragazzi perché è normale che siamo arrivati a questo punto con i tre punti andare e cercare di portare a casa solo un pareggio significherebbe probabilmente andare con un atteggiamento sbagliato poi se il campo dovrà dire che la partita finale in pareggio questo non lo so noi andiamo per cercare di fare il risultato perché la classifica in questo momento dopo il percorso che abbiamo fatto ci darebbe sarebbe una spinta importante e di conseguenza andiamo cercando di portare a casa il risultato chiudiamo con alcuni titoli di serie D sul messaggero Steri rilancia l'Aquila 5 sfide da vincere l'Aquila che in un momento si con l'avvento di Battistini in panchina poi De Angelis Avezzano addio senza rancore De Angelis che è stato esonerato il DS ormai ex DS dell'Avezzano esonerato dopo la sconfitta nel derby con l'Aquila dal presidente Paris il Pineto invece prepara la festa salvezza e domenica ospiterà la capolista fermana prossima alla vittoria del Girone F per la promozione Giulianova Spoltore per la finale di Coppa si giocherà sabato 14 sul campo di Pineto noi chiediamo qui la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti informativi con il nostro notiziario il nostro TG6 alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 in regia ringrazio Silvia Gentile e Gianni D'Areo e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata e ringrazio Silvia Grazie a tutti.